Ha preso il via la scorsa settimana l'ottava edizione del progetto di socializzazione per anziani promosso e realizzato dalla fondazione CR Trieste. I numeri parlano da soli, ha detto il vicepresidente Lucio Del Caro. Le sette edizioni precedenti hanno riscosso grandissimo entusiasmo e partecipazione da parte degli ospiti delle 34 case di riposo coinvolte, con oltre 15.000 anziani che hanno beneficiato dei programmi di trattenimento. Oltre 1.700 tra spettacoli teatrali e concerti, organizzati grazie alla collaborazione dell'Associazione tra le Compagnie Teatrali L'Armonia, la Glasmen Amatizza e il Conservatorio Tartini. La musica continua a fare da filo conduttore delle diverse proposte elaborate. Il calendario propone ogni mese infatti spettacoli teatrali creati ad hoc per il progetto e che richiamano alla memoria del passato con l'allegria delle canzoni popolari, dialettali, della musica leggera oppure con concerti di musica classica. Il programma che riguarda la socializzazione nelle case di riposo dove sono ospitati degli anziani, programma che negli anni precedenti veniva presentato dal dottor Piccini e quindi abbiamo ricordato in questa occasione il dottor Piccini che è stato caro a tutte le persone che l'hanno conosciuto. Abbiamo rilevato molte testimonianze assolutamente positive di questa attività e che visto il successo e la necessità per queste persone continuerà a fare anche negli anni prossimi. Quindi diciamo anche per quest'anno le 34 case di riposo avranno questi 250 incontri che non sono pochi. e quindi Grazie.